ci siamo tutti ragazzi mi temi semplicemente ok si in that case what is going to happen is that then we are going to tra l'altro qui vedete le varie farfalle che sono le famiglie di microcontrollori disponibili cesti m32 f0 mani del patenone che sono state collocate nel nuovo museo dell'acropoli in quale situazioni i vettori sono dipendenti questo processo è detto diffusione e può avvenire con due diverse modalità ricordano alcuni aspetti alcune situazioni della loro infanzia come per esempio le ore passate a scuola come per esempio in scena la varietà e la dinamica di un dialogo fra interlocutori in presenza questa emergenza sanitaria che abbiamo vissuto in questi giorni ci ha obbligati a essere lontani l'uno dopo l'altro ma incredibilmente grazie alla tecnologia e grazie all'impegno alla volontà di ciascuno di noi siamo stati in grado invece di sfruttare questo momento per diventare ancor più una comunità coesa e convergente e per me questo è un grande risultato a questa crisi abbiamo imparato molto è un grande risultato a questa crisi in grado di noi siamo stati in grado dell'interno di Quintena